E' pronto, Dazer velocissimo, sgabbia in vantaggio, ancora Drago va al suo esterno a chiedere strada a Dazer, la ottiene, poi Rantumi, Pepita, Sangiovesa, Buonanotte, Bices, Peperina in coda a Mystic Knight, ancora Drago scende in corda e conseguentemente in vantaggio su Rantumi e Dazer che hanno all'esterno Pepita e Sangiovesa nella scia di Sangiovesa e di Buonanotte, prima Sangiovesa e poi Buonanotte, nel mezzo tra questi due c'è Mystic Knight, Speperina in corda, nel frattempo invece larga, si mantiene Bices, ancora Drago, Rantumi, Dazer, poi terza corsia per Pepita e ipotetica quarta per Sangiovesa, dietro ai cinque Mystic Knight precede Bices, Peperina e Buonanotte, ancora Drago può scappare da Dazer e Rantumi, da Pepita di Breme, poi Sangiovesa, Mystic Knight e Bices che sposta in mezzo alla pista cercando l'appoccio esterno, ancora Drago, Rantumi, indirittura Dazer, Pepita, Sangiovesa, Bices, poi Mystic Knight, avventaglio, spiegati avventaglio, ancora Drago, Rantumi, a largo dovrebbe esserci lo scatto di Bices su Pepita di Breme, poi anche Sangiovesa e Buonanotte, con Pepita, ancora Drago e Bices a lottare, ancora Drago, Pepita di Breme, Bices che cala leggermente, poi Mystic Knight, fino in fondo, ancora Drago e Pepita a fil di palo, stretta tra i due, poi Bices e Mystic Knight. Pepita di Breme all'esterno, ancora Drago all'interno, tempo di galoppo a decidere che è a favore di Pepita. Non è detto che chi ha il tempo di galoppo a favore poi vinca, però il tempo di galoppo decide la corsa, in questo caso, come vedete, all'unisolo sul palo e si va dal giudice. Foto, sensazione televisiva che l'otto copra il quattro, poi il tre e il due. 8 e 4 vicini, poi 3, 2, 7. Un'idea di arrivo potrebbe essere questa, 8 e 4 foto, poi 3, 2, 7, per completare l'ordine di arrivo, è tutto. Ci siamo, eccoci. Fotografia per il primo, secondo posto, l'impressione da bordo pista in leggero favore di Pepita di Breme, sentiamo Stefano Saiu, che dici Stefano? Sembra di sì, da cavallo sembra di sì. Da cavallo sembra di sì, però per prudenza aspettiamo.